Allora, mia madre ha deciso di pulire i vetri. Ti vengono mai gli aloni? No! Bugiarda, non è bello! E cosa dice la fisica a proposito degli aloni? Ah, non lo so! Nei detergenti, i tensioattivi sono molecole che si legano allo sporco per trasportarlo via con l'acqua che scorre. Quando però il detergente non viene rimosso completamente dai vetri, resta legato insieme allo sporco sulla superficie. E questo è quello che noi vediamo come alone. Allora, per i vetri esterni, evitate di lavarli sotto al sole. Meglio lavorare all'ombra. Questo perché dopo la prima passata, il sole fa evaporare prima del previsto una componente acquosa, lasciando sul vetro solo il detersivo, cioè l'alone. Regola generale per tutti i vetri. Usate acqua calda mista a poco detersivo. L'alta temperatura dell'acqua calda, infatti, rende meno viscosi i detersivi, impedendo al poco detersivo di legarsi saldamente alla superficie del vetro. Inoltre, l'acqua calda rende molto più deboli i legami fra vetro e sporco, che quindi viene rimosso più facilmente. Strumento bonus, anche ecologico. Usate la patata. L'interno della patata, infatti, è pieno di proteine e pectine, molecole che abbassano la tensione superficiale, agendo esattamente come i tensioattivi dei detergenti. Allora, tagliate a metà una patata cruda e strofinatela sul vetro spolverato. Poi non dovrete fare altro che risciacquare bene solo con acqua.